Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione Pavia. Vediamo insieme i fatti principali di oggi nel sommario. Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, rientra a lavoro dopo il ricovero con la diagnosi di embolia polmonare. Grazie a tutti per la vicinanza, ha commentato. Scontro aperto in Forza Italia. Sorte annuncia la nomina di Bobbio Pallavicina, commissario provinciale, al posto di Cattaneo e lui preannuncia una battaglia. Indispettito a suo dire per la lunga attesa al pronto soccorso, ha cominciato a minacciare i medici presenti e poi ha spintonato con violenza un'infermiere e carabinieri. Arrivati sul posto l'hanno bloccato e arrestato. Questa mattina l'assessore regionale Alessandro Betuschi è in visita a alcune aziende della Lomellina. Per lui piano Marshall contro le future siccità. La manifestazione Amico Campus Sport è l'occasione giusta per rappresentare l'inclusione. Noi ce la siamo fatti raccontare dai protagonisti. Apriamo il nostro telegiornale con una bella notizia. È una notizia di politica, ovvero il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, è ritornato al lavoro dopo le settimane di ricovero al San Matteo per un'embolia polmonare. Le prime parole sono state quelle di ringraziamento verso la vicinanza di tutti. Sentiamo. Un messaggio di bentornato posizionato sul tavolino dell'ufficio accolto il sindaco Fracassi al suo rientro al lavoro lunedì 15 maggio. È passato un mese da quel terribile venerdì 14 aprile. Due malori nel giro di poche ore e poi ricovero al Policlinico San Matteo con la diagnosi di embolia polmonare. Il lungo processo di guarigione è ancora in corso. È stato abbastanza pesante, però devo ringraziare sicuramente tutto il lavoro che è stato fatto dal Policlinico San Matteo, non solamente nei miei confronti. Come battuto potrei dire che dovevo appurare personalmente che la sanità funzionasse nell'ambito pavese. Devo dire che i quattro reparti, compreso naturalmente anche poi cardiologia, funzionano molto 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 bene. Lo spavento alle spalle, ma non i tanti pensieri che sono passati nella mente del sindaco durante i lunghi giorni in terapia intensiva. Hai tempo di pensare un pochettino tutto, ecco. Innanzitutto devo ringraziare il grosso affetto che ho ricevuto da un sacco di gente che non pensavo neanche, devo dire. Questo è stato anche di grande aiuto per quanto riguarda il discorso della guarigione. È stato veramente una cosa molto bella, un discorso di affetto molto molto importante. Ecco, che ha dato il suo grosso contributo. Quindi quindi ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine veramente. Poi io non potevo rispondere, non potevo parlare, mi scuso anche, ma potete capire che avendo la mascherina dell'ossigeno, dove ero immobile su un letto, insomma non ero massimo. Avevo il telefonino però vedevo, ogni tanto rispondevo qualcuno ma con moderazione. Il respiro si fa faticoso dopo pochi minuti di conversazione, per questo il ritorno al lavoro sarà graduale. Ma la voglia è quella di ripartire e portare a termine i tanti progetti avviati e che dovranno trovare attuazione in quest'ultimo anno di legislatura. Ma io devo ringraziare naturalmente tutti i colleghi che hanno portato avanti in questo periodo. Io sono più che convinto, ecco credo molto in questa città, la città deve essere rilanciata, ci stiamo riuscendo d'accordo con gli altri enti, quindi con questo discorso di lavoro di squadra mi scuso anche ma ho ancora un po' di problemi per quanto riguarda il discorso di respirazione e per quanto riguarda il discorso naturalmente del parlare, quindi della voce, che comunque mi hanno detto che si recupera man mano. Rimanendo in tema di politica, è scontro aperto in Forza Italia perché Sorte, dopo aver annunciato la nomina di Bobbio Pallavicina, commissario provinciale al posto di Cattaneo, quest'ultimo ha, diciamo in un certo senso, preannunciato una battaglia. Vediamo. Si fa sempre più tesa con il passare delle ore la situazione interna Forza Italia dopo il cambio dei capigruppo, deciso dal nuovo coordinatore Lombardo Alessandro Sorte, una mossa che ha portato alle pura, dell'ex sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo che non sarà più commissario provinciale. Al suo posto, Sorte ha nominato l'attuale vice sindaco del capoluogo Antonio Bobbio Pallavicini, una decisione che ha scatenato la rabbia di Cattaneo che nella tarda serata di martedì ha rilasciato un comunicato stampa di fuoco. Si vuole cacciare le persone? Lo si dica chiaramente, scrive l'ex primo cittadino, che parla dell'ennesima scelta non condivisa, dettata solo da motivi personali. Cattaneo ha poi annunciato di aver deferito Sorte ai propri viri del partito. Nelle scorse ore lo stesso Sorte è poi tornato sulla vicenda rispondendo alle domande dei giornalisti a Montecitorio. Stiamo solo riorganizzando il partito utilizzando le energie migliori che ci sono sul territorio, distribuendo le varie responsabilità, ha spiegato, sottolineando di aver nominato come nuovo commissario l'uomo più votato a Pavia con il consenso del consigliere regionale Invernizi e facendolo con le stesse modalità usate in altre città. Sorte, ritenuto vicino alla compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, dice anche che non si tratta di un repulisti. Lo scontro interno a Forza Italia, però, potrebbe portare presto a nuovi colpi di scena. E sono stabili le condizioni di salute del comandante dei vigili di Cilavegna, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Una brutta botta, ma niente di preoccupante. Sono confortanti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Luciano Legnazzi, comandante della Polizia Locale Intercomunale di Cilavegna, Robbio, Parona, e recentemente assegnato anche al comando di Cassonnovo, vittima di un incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì. Legnazzi, che è sempre rimasto cosciente e collaborativo, è stato ricoverato all'ospedale San Matteo dopo che la sua auto si è ribaltata, in seguito al contatto con un'altra vettura nel rettilineo tra Albonese e Mortara, un tratto di strada più volte interessato da incidenti anche gravi. Il contatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso, forse per una incomprensione tra gli automobilisti coinvolti. Nello scontro è rimasta leggermente ferita una donna di 31 anni, ma ad avere la peggio è stato proprio il comandante della Polizia Locale. Per lui sarà necessario un periodo di riposo. Piove insomma sul bagnato per la Polizia Intercomunale, che già deve far fronte alle difficoltà di dover servire un territorio diventato ancora più vasto dopo l'annessione di Cassonnovo, inseritosi nella convenzione tra Cilavegna, Robbio e Parona per le vicende giudiziarie che avevano interessato due agenti in forza al proprio comando. Ora l'incidente che ha causato la temporanea assenza del comandante Legnazzi, le cui condizioni però fortunatamente non parrebbero destare preoccupazioni. Ed è stato arrestato l'aggressore del pronto soccorso di Vigevano, aveva prima minacciato i medici e poi aggredito un'infermiera. Vediamo. Prima prende dimiri i medici, poi ferisce un'infermiera. I carabinieri hanno arrestato un 44enne responsabile di un'aggressione avvenuta all'ospedale civile di Vigevano. I fatti risalgono alla giornata di lunedì. L'uomo, un pregiudicato residente a Torre Beretti, si era presentato al pronto soccorso assieme alla compagna che aveva dolori alla spalla. Seccato per la lunga attesa in sala d'aspetto, il 44enne ha iniziato a insultare e minacciare i medici, chiedendo loro di visitare la donna. A quel punto è intervenuta l'infermiera, una 57enne, che ha cercato di riportare la calma. Per tutta risposta, gli ha pregiudicato la spinta con violenza facendole battere la testa contro il pavimento. La signora è stata quindi soccorsa dai colleghi, mentre sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato il 44enne con l'accusa di lesioni personali. L'infermiera ferita ha riportato una prognosi di 41 giorni, mentre l'uomo è finito processo per direttissima a Pavia nelle scorse ore. Il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L'aggressione, tra l'altro, si è verificata proprio nel giorno in cui la SST ha annunciato il potenziamento della vigilanza armata negli ospedali di Vigevano e Voghera. A partire dal 1 giugno, nei pronto soccorso delle due strutture, saranno presenti delle guardie giurate dalle 20 alle 8 del mattino. Questa mattina l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Beduschi ha fatto visita ad alcune aziende in Lomellina e rispondendo alle nostre telecamere ha dichiarato sul piano siccità che servirà un piano Marshall. Un piano Marshall per l'agricoltura perché non ci si trovi impreparati di fronte alle future siccità. L'assessore regionale Alessandro Beduschi ha robbio nell'ambito di una visita istituzionale ed alcune grandi aziende della Lomellina considera le piogge di maggio una parentesi e spiega come la Lombardia voglia attrezzarsi nella consapevolezza che anche senza fenomeni estremi come la siccità del 2022 da ora in poi non sarà più possibile aspettarsi precipitazioni regolari in corrispondenza con i cambi di stagione e che quindi occorra agire in programmazione. La tutela della risorsa idrica sia in termini di infrastrutture per l'accumulo e l'irrigazione sia in termini di nuove tecnologie di coltivazione e sarà il punto chiave della prossima campagna da 400 milioni del PSR il piano di sviluppo rurale con cui la regione distribuisce i fondi europei. È un cosiddetto piano Marshall anche idrico che deve partire proprio dalla consapevolezza che i penultimatum degli ultimi anni non devono essere ripetuti questo è davvero un ultimatum quest'anno abbiamo avuto questa parentesi fortunata dalle nostre parti sfortunata da altre parti ma gli investimenti di regione Lombardia saranno davvero massicci e anche la ricerca, anche l'innovazione delle migliori tecnologie stiamo avendo anche un panorama internazionale per avere le migliori soluzioni. Le piogge di quest'anno sono sì arrivate ma in ritardo molti agricoltori spaventati da un'estate che solo un mese fa sembrava poter diventare la replica di quella precedente al momento delle semine hanno preferito abbandonare il riso per il futuro vista l'impossibilità di stipulare assicurazioni contro la siccità andranno considerate politiche di assistenza ai risicoltori. Io credo che il riso non debba essere abbandonato anzi deve essere incentivato alla produzione perché la richiesta è tanta per cui agli agricoltori e al mondo produttivo pavese dico di non spaventarsi e che Regione Lombardia accompagnerà in questa transizione anche produttiva i produttori locali. Il contrasto ai cambiamenti climatici non potrà però prescindere da un aggiornamento delle tecniche di coltivazione. Tra le pratiche da incentivare gli esperti indicano in particolare l'utilizzo delle risaie in sommersione. L'insommersione è la nuova frontiera anche dal punto di vista produttivo e anche del reddituale sembra essere molto accattivante. Regione Lombardia proprio con lo strumento del PSR vuole accompagnare la categoria a esplorare questa nuova frontiera perché anche in fatto di resa sembra essere davvero molto commettente. Il tema della violenza sulle donne per l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca ha 12 anni per la ratifica di una convenzione sarebbero troppi. Bisogna tenere alta l'attenzione e proteggere le donne dal dramma delle violenze fisiche sessuali e psicologiche ma bisogna anche essere rapidi. È la fondo dell'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca in occasione della ratifica al Parlamento Europeo della Convenzione di Istanbul. Il trattato approvato dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. Gli stati aderenti hanno inoltre l'obbligo di introdurre servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne come un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per le vittime. La Turchia è diventato il primo paese a ratificare la Convenzione ma ha rievocato la propria partecipazione nel 2021 attraverso un decreto firmato dal presidente Erdogan. Perciò che impiegare 12 anni per ratificare la Convenzione di Istanbul rende però non credibile l'Unione Europea. Benvenga qualsiasi dibattito, qualsiasi sottoscrizione al fine di tenere alta l'attenzione, di alzare l'attenzione per proteggere le donne dal dramma delle violenze fisiche, sessuali, economiche e psicologiche. È chiaro che però serve essere rapidi. 12 anni sono passati dalla sottoscrizione della Convenzione di Istanbul. Serve essere credibili e serve essere rispettosi. E allora come non è credibile, come non è rispettoso sostenere che si salva il pianeta togliendo la busta all'insalata, non è credibile tenere una Convenzione che si chiami Convenzione di Istanbul. La Turchia è uno di quei territori che è più aggressivo, che è meno tutelatrice, che è meno protettore delle donne. Chiedete alle donne turche se si sentono protette o no. E allora io non voglio discutere se è buona cosa firmare o no. firmiamo, ma dopo 12 anni serve anche a pensare a una seconda Convenzione che magari si è ospitata in Italia, benvenga perché no a Milano, perché no a Genova, perché no a Torino, perché no a Venezia. Abbiamo in Europa delle bellissime città sicuramente più rispettose di questo. Sono stati tutti assolti i manifestanti che 5 anni fa erano stati denunciati per violenza privata durante le proteste sindacali all'esterno di una logistica di Stradella. Ripercorriamo il momento. Vediamo. Sono stati tutti assolti i manifestanti che 5 anni fa erano stati denunciati per violenza privata durante le proteste sindacali all'esterno di una logistica di Stradella, la XPO, che movimenta la merce della catena di abbigliamento H&M. Dieci attivisti e supporter del sindacato Sicobas su richiesta della procura di Pavia erano così finiti alla sbarra, seguito dei disordini durante lo sciopero indetto nella prima decada di aprile del 2018. L'accusa di violenza privata derivava dal fatto che sarebbe stato impedito l'accesso al sito ad alcuni operai. Nel procedimento si era costituita parte civile anche l'azienda XPO. Alcuni sindacalisti dovevano inoltre rispondere della mancata comunicazione alla questura della manifestazione, l'ennesima di una serie indette nell'ultimo decennio per verificare più tutele e migliori condizioni di lavoro negli impianti della zona, dove sono impiegati migliaia di operai. Nelle scorse ore il giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli, tuttavia, ha deciso per la soluzione perché il fatto non sussiste. Andiamo al tema della mobilità perché Adorno, via Veneto, tornerà a doppio senso. Su questo si è aperta una vera e propria polemica e proprio per questo le minoranze stanno protestando. Entrerà in vigore dal 18 maggio la nuova ordinanza che regola la viabilità nel centro di Dorno. Sta per terminare la prima fase dei lavori all'incrocio tra via Marconi e via Vittorio Veneto che riaprirà a doppio senso. Il tema ha suscitato da ultimo la protesta della minoranza di Noi Convoi per Dorno che, nella passata consigliatura, quando era al governo del paese, aveva portato la strada a senso unico. Negli anni passati l'incrocio era stato scenario di diversi incidenti stradali, anche gravi, ragion per cui in via Veneto la passata amministrazione, ora all'opposizione, ha istituito il senso unico. Da allora non si sono verificati più incidenti, ricordano i consiglieri in una nota. Nell'incrocio non c'era nessun problema di sicurezza. Con il ripristino del doppio senso, l'amministrazione lo crea e lo deve risolvere. Arriva la replica del comune che difende a spadatratta la decisione volta a liberare dal traffico il centro congestionato dai mezzi. Ovviamente il doppio senso di marcia è stato frutto ed oggetto di un'analisi approfondita. Noi avevamo sfidato a uno studio tecnico competente in viabilità, uno studio del traffico e quindi della viabilità nel nostro paese dove ci hanno restituito degli lavoranti grafici di studi che vanno a mettere in risalto quelle che erano le criticità del nostro sistema viabilistico. Tutto il traffico in entrata indorno arrivando da Pavia purtroppo viene tutto dirottato nel centro storico in strade strette e non possono supportare quello che è il traffico in entrata. Il progetto preliminare del nuovo ponte della Becca arriva al Ministero non ci sarà ovviamente da analizzare questo nuovo progetto ma è necessario anche mettere in sicurezza il ponte esistente e di verificare con attenzione i lavori svolti fino ad ora. in periodo di aumenti per le tariffe locali nei comuni della nostra provincia una buona notizia arriva per i servizi scolastici a Cava Manare infatti resteranno invariati rispetto agli ultimi tre anni i costi del pre e post scuola del prossimo anno si tratta di uno strumento fondamentale per tantissime famiglie Il parco pubblico di Voghera nei giardini dell'ex ospedale psichiatrico è più vicino la mozione corredata dalle firme di oltre 400 cittadini Scusate abbiamo avuto un piccolo problema tecnico adesso speriamo che con la regia che ci assista riproponiamo il servizio appunto sul ponte della Becca che il progetto preliminare è arrivato proprio in Ministero vediamo Il progetto preliminare del nuovo ponte della Becca è finalmente arrivato al Ministero delle Infrastrutture e il Vice Ministro interpellato direttamente risponde al Comitato la speranza spiegano gli attivisti che da 5 anni si battono per ottenere da un lato un ponte nuovo e dall'altro la messa in sicurezza di quello attuale è che in tempi molto brevi si arrivi a conoscere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale è tenuto spiegano a dare una risposta di approvazione al primo progetto A marzo è stato consegnato dalla stazione appaltante l'amministrazione provinciale che era appunto il comitente del primo progetto è stato consegnato il primo progetto al governo a Roma al Ministero e noi eravamo preoccupati di questa situazione perché non hanno rispettato i 40 giorni di tempo nei quali avrebbero dovuto rispondere ecco il motivo per il quale noi abbiamo inviato un'email abbiamo sollecitato il Ministero a risponderci e sembrerebbe speriamo che fra un paio di settimane si abbia la risposta definitiva del parere del Ministero così il comitato dunque che si prepara l'incontro pubblico di Linarolo del 17 giugno fra un mese esatto in cui si farà il punto della situazione anche perché fanno notare lo scorso anno si parlava addirittura di un avvio dei lavori a settembre 2023 dopo tanti anni i tempi potrebbero essere finalmente il condizionale resta d'obbligo quasi maturi nel frattempo continua l'attenzione del comitato sul vecchio ponte quello sotto il quale ci troviamo in questo momento perché tante questioni risultano ancora irrisolte sì certamente purtroppo abbiamo notato il mese scorso l'inizio di un distaccamento della verniciatura effettuata pochi mesi fa con committenza amministrazione provinciale e dobbiamo verificare insieme alla provincia quindi sabato 17 giugno a Linarolo quello che sta accadendo inoltre avrete sicuramente notato il discorso che riguarda la crepa Anas ci ha risposto dicendo di stare tranquilli benissimo ma noi adesso abbiamo contattato un ingegnere terzo che ci darà un diciamo suo consulto finale per poter chiudere questa faccenda perché la crepa rappresentava per noi una questione aperta a Cavamanara nonostante i rincari i costi per il pre e il post scuola rimarranno invariati vediamo in periodo di aumenti per le tariffe locali nei comuni della nostra provincia una buona notizia arriva per i servizi scolastici a Cavamanara infatti resteranno invariati rispetto agli ultimi tre anni i costi del pre e post scuola del prossimo anno si tratta di uno strumento fondamentale per tantissime famiglie che riguarda il pre scuola alle elementari rodari di Cava e bordoni della frazione di Mezzanacorti oltre agli asili il servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 il post scuola è attivo invece dalle 16.30 alle 17.30 nelle giornate di lunedì martedì e giovedì alle elementari rodari dei bordoni resta invece dal lunedì al venerdì ma dalle 16 alle 17.30 agli asili cittadini una parte del servizio sarà coperto dall'amministrazione comunale di Cava Manara mentre le famiglie che utilizzano e pagano già lo scuolabus non verseranno alcun contributo per aderire al progetto o chiedere ulteriori informazioni è possibile contattare il comune di Cava Manara entro il prossimo 17 giugno A Voghera è arrivato l'ok per la realizzazione dei giardini pubblici nel parco dell'ex manicomio a Voghera vediamo Il parco pubblico di Voghera nei giardini dell'ex ospedale psichiatrico è più vicino la mozione corredata dalle firme di oltre 400 cittadini presentata dal consigliere di opposizione Antonio Marfi è stata infatti approvata all'unanimità dal consiglio nel corso dell'ultima seduta formalmente alcuni punti sono stati modificati in particolare alcuni aspetti tecnici che saranno rimandati agli uffici di competenza ma la sostanza non cambia l'amministrazione chiederà ad ASST Pavia proprietario di quest'area di cederla incomodato per questo scopo il sindaco Paolo Garlaschelli ha spiegato che una volta ottenuto l'ok dell'ex azienda ospedaliera sarà steso un progetto di dettaglio per capire quanti soldi occorrono per realizzarlo e dove trovarli nelle pieghe del bilancio o tramite altri canali di finanziamento soddisfatto anche il promotore dell'iniziativa Marfi del Movimento 5 Stelle secondo il quale il progetto permetterebbe da una parte di offrire una nuova area verde alla città e dall'altra di valorizzare l'eredità storica e culturale per quanto anche dolorosa rappresentata dall'ex ospedale psichiatrico provinciale dismesso definitivamente nel 1998 e il cui destino rimane ad oggi sconosciuto nei periodi di più intensa attività la struttura arrivò ad ospitare oltre mille pazienti e 400 operatori sanitari fra le proposte emerse per il nuovo parco pubblico c'è anche la creazione di un percorso didattico e narrativo dedicato proprio a questi temi non chiamatemi morbo storie di resistenza al Parkinson è il titolo della nuova mostra fotografica che inaugurerà venerdì a Pavia vediamo convivere con il morbo di Parkinson continuando a fare ciò che si ama una mostra racconterà storie di quella che viene considerata di una straordinaria normalità l'inaugurazione è fissata per venerdì 18 maggio a Palazzo Broletto non chiamatemi morbo è una mostra fotografica parlante organizzata dall'Associazione Pavese Parkinsoniani con le immagini di Giovanni Diffidenti e le voci di Claudio Bisio e Lella Costa la mostra ha un po' vuole sostanzialmente fare conoscere questa malattia all'interno nel contesto sociale perché noi riteniamo che sia importantissimo che la malattia sia conosciuta e che pertanto i malati possono avere un'accoglienza adeguata sono malati che in generale non amano condividere socializzare tendono molto a diciamo richiudersi in se stesso questa associazione esiste a Pavia dal 1997 quindi da più di 25 anni e quest'anno diciamo sul prolungamento del festeggiamento dei 25 anni dalla fondazione abbiamo proprio deciso di portare attività di divulgazione sul territorio pavese oltre a questo l'associazione nella sua quotidianità organizza attività specifiche per i malati di Parkinson e attività in sostegno ai cargivers ai familiari la manifestazione Amico Campus Sport a Vigevano è l'occasione giusta per rappresentare l'inclusione noi ce lo siamo fatti raccontare dai protagonisti quelli di Amico Campus Sport sono dieci giorni in cui si dimostra cosa sia il significato dell'inclusione la manifestazione in corso a Vigevano fino a domenica coinvolge circa 80 ragazzi disabili provenienti da varie zone d'Italia in una serie di attività organizzate in collaborazione con oltre 50 associazioni di volontariato del territorio dai giochi di società al karaoke ai balli di gruppo fino naturalmente alla pratica sportiva una full immersion è diventata un appuntamento imperdibile edizione dopo edizione per descriverla al meglio abbiamo chiesto a tre dei partecipanti Matteo, Giulia e Sara di raccontarcela per noi Amico Campus è come una famiglia quindi diciamo per noi rimane per sempre nel nostro cuore mi diverto tantissimo è una bella opportunità per tutti per conoscerci per stare in famiglia perché ogni anno che torno qua è come una seconda famiglia per me Amico Campus per noi è una libertà per stare con tutti gli amici e soprattutto stare con tutti tra le iniziative in esterna anche una giornata al parco dei tre laghi di Gravellona tra cavalli e pedalò e persino alla simulazione dello spegnimento di un incendio con la protezione civile è stato bellissimo perché è la prima volta ho fatto un incendio cioè non proprio incendio incendio ma con l'acqua e molto belli anche i pompieri due giorni belli proprio belli belli e oggi che siamo a questo palazzetto dello sport sono tanti sport ma io in particolare ho fatto palla a mano pallavolo e ho fatto corso di pittura all'animazione della settimana di Amico Campus Sport hanno partecipato delle studentesse del liceo Cairoli di Vigevano tramite un progetto di alternanza scuola-lavoro poi ringraziamo anche gli ragazzi di tutto Cairoli che ci aiutano a fare attività e sono dei magnifici ragazzi dei magnifici amici che mi porterò per tutta la vita a te diciamo il nostro il nostro motto Bacolo ma non mollo sì e questa era la nostra ultima notizia io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione un buon proseguimento